eccoci Santigliano del Mar cittadina mediodale guardate che bella proseguiamo dai proseguiamo sopra la pioggia magari però veramente questo borgo ne valeva la pena Barbara com'è andato al shopping? benissimo sono contentissima abbiamo speso poco abbiamo preso un sacco di colline simpatiche tutti i prodotti locali diciamo artigianato locale e qui si prosegue per il centro l'uno ogni tanto si blocca perché non gli va il guinzaglio è vero? cane libero guarda che carina queste cittadine veramente una chicca ciao ragazzi siamo rimasti di sorpresi non è la prima volta che ci succede come dicevo i spagnoli sono molto disponibili aiutano al parcheggio, questo è il tipo di problema adesso la signora del negozio di souvenir c'è corsa dietro perché ha trovato 50 euro sul pavimento e è venuta a chiedere se si poteva controllare se si mancassero dei soldi appunto, se avevamo quanto avevamo e si era restituiti cosa dire, veramente persone oneste grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti